Sicuramente sarà una partita molto difficile, ci siamo impegnati tutto l'anno con tanti stage, tanti allenamenti, finalmente siamo arrivati del dunque. Siamo pronti, speriamo di far bene, di far divertire il pubblico, abbiamo una qualificazione alla portata, loro sono molto forti, noi non saremo da meno, almeno ci proveremo fino alla fine. Pubblico che ci aspettiamo in grande quantità domani? Credo sicuramente di sì, di solito il pubblico di Conversano non tradisce mai, mi aspetto sicuramente un ambiente molto caldo, un palazzetto molto molto pieno e tanto tifo.